fratelli e sorelle ciao a tutti sono don bab e questa è la prima volta nella mia vita in cui trasmetto qualcosa in live forse non è vero ho già fatto un tentativo con youtube tanto tempo fa erano le tre di notte facevo una prova ho svegliato mio amico con la notifica e da allora non mi parla più chissà se alle 11 e mezza del mattino del sabato qualcuno mi ascolta o se questo sarà un vaniloquio in ogni caso ci provo ciao a tutti ancora sono don fabrizio mi sono già presentato nel mio podcast nella prima puntata e poi in qualche blog ma se qualcuno sta ascoltando e non sapesse chi è il fesso che chiacchiera io sono un prete ho 36 anni vivo e lavoro in montagna alle pendici delle alpi marittime e cozzie sulla faglia tra le alpi marittime le alpi cozzie in valle stura dietro a cuneo o sopra cuneo a seconda di dove guardiamo vivo in questa valle dove il paesaggio il panorama dalla mia finestra mi richiama sempre alla bellezza della natura ciao ilario benvenuto grazie di ascoltare sono in un posto bello dicevo e questa è la cosa più bella che che voglio condividere così per cominciare per descrivermi io sono il panorama la vista ciò che mi circonda detto così sembra il re sole io sono lo stato ma all'opposto del re sole in realtà il mio è un modo per essere consapevole di essere un puntino in una meraviglia che è quella che ho intorno e di cui sono grato ogni giorno non ho niente contro quelli che nascono in città ma credo di essere più fortunato di tanti che vivono in mezzo al cemento vivo in mezzo alla natura che sta esplodendo oggi ci sono 22 23 gradi è un marzo assolutamente atipico c'è un bellissimo sole un'aria che a dratti è un po' forte un po' veloce ma è calda e tutti i prati si stanno svegliando dopo l'inverno di un bel verde brillante e sono tutti punteggiati da primule gialle cosa faccio sono parroco sono parroco di tre parrocchie e piccole comunità molto piccole hanno tenetevi forte la bellezza di un'ottantina di abitanti ciascuna e sono tre paesini stupendi anche questi incastonati nei valloni laterali di questa bella valle ma vivo insieme ad altri tre preti qui in casa nel paese principale che si chiama demonte nella casa canonica viviamo insieme come una fraternità questa parola mi piace tantissimo perché fa pensare che siamo fratelli ciao anche a te massimo benvenuto grazie e in questa comunità appunto scambiamo innanzitutto la preghiera poi i pasti condividiamo appunto qualche il tetto insomma condividiamo i momenti della giornata ma poi ci confrontiamo molto loro sono appartengono a una generazione più grande della mia la generazione di mio padre sono nati 70 anni fa e da loro imparo tante cose anche uno sguardo ormai più ampio più grande sulla storia perché il mio di giovane a volte è uno sguardo piccolo che punta ai problemi quotidiani e non ne esce mai e mi occupo delle parrocchie e ma anche di un altro aspetto qui della vita delle parrocchie delle comunità della valle che è quella dei giovani e con i giovani cerco di condividere di l'aggregazione le avventure i pellegrinaggi le riflessioni tutto quello che mi capita a questo proposito la settimana passata ho vissuto insieme a alcuni giovani della nostra diocesi un'esperienza di vita comune una settimana a cuneo nel locale adatto insomma in seminario che ci ha ospitati e ho fatto una bella una bella esperienza di nuovo di incontro di condivisione e ho imparato tante cose è stata una settimana istruttiva magari poi ma poi magari poi dico qualcosa se vi interessa a proposito se vi interessa sapere qualcosa scrivete che io non so minimamente da dove cominciare una live mi sono preso degli appunti ho detto dico questo e quello e ho già finito i miei appunti sono un dilettante veramente come è fatta una mia giornata ho scritto questa domanda sul foglietto e l'ultima riga di questo foglietto che ho preparato come è fatta una mia giornata e non lo so nel senso che è una giornata piena di imprevisti ogni giorno è diverso anche se c'è uno schema comune la sveglia presto e la preghiera insieme ai miei confratelli e la colazione diciamo così e poi dopo si parte si parte all'avventura la mattina è una mattina più silenziosa più tranquilla quasi sempre perché ci si tratta di informare di leggere di approfondire qualche ragionamento di preparare qualche incontro passo molto tempo a scrivere insomma davanti al computer ad ascoltare a leggere ma anche ci sono tante cose da fare tipo fotocopie volantini portare lettere andare a incontrare qualcuno che che ha chiesto appuntamento per per qualche motivo da un malato piuttosto che non in qualche negozio a fare una commissione dopo il pranzo che qui consumiamo in una mensa comune non solo tra noi preti ma anche insieme ad altre persone sole del paese che vengono a mangiare con noi e abbiamo una cuoca che ci vizia infatti ho messo su qualche chiletto da quando sono qui devo cominciare a inserire durante la giornata del movimento è urgente ormai sto invocando con tutte le mie forze una crisi di mezza età altrimenti altrimenti diventerò un panzonaro da guinness dei primati mangiamo insieme dicevo e poi il pomeriggio invece è una è una giungla ogni volta succede qualcosa devo andare a trovare qualche famiglia oppure delle persone dei giovani spesso che magari hanno qualche richiesta allora facciamo qualche chiacchiera piuttosto che non andare a sistemare l'oratorio da qualche parte perché qui ci sono tanti centri ma insomma non mi dilungo comunque ci sono tanti spazi sparpagliati nella valle allora devo partire in macchina e vado su o giù e incontro qualcuno e verso sera riunioni incontri preghiera comune cena la salto quasi sempre all'ora giusta nel senso che non salto di mangiare ma mangio molto tardi tipo alle 10 o alle 11 di sera oppure molto presto alle 6 perché ho scoperto che se mangio molto tardi poi dormo male allora mangio prima però questa cosa qua mi procura alle 11 di sera una fame boia e ed è un problema ragazzi è un problema enorme ma questo non importa e la cosa più bella che vivo durante le mie giornate sono appunto gli incontri dal più piccolo e banale in piazza in cui magari don volevo giusto dirle una cosa fino a qualcuno che ti chiama e cerca davvero di confidare di affidare una parte delle sue delle sue pene o delle sue gioie a un povero pretino qualunque come sono io poi sabato e domenica invece cambia tutto perché sabato e domenica qualcuno è a casa si volontari si danno disponibili a fare delle cose per esempio stamattina alle 8 e mezza ero già in sacrestia in una delle mie parrocchie abbiamo dato il rinfrescato il colore delle pareti e quindi si trattava di rialzare i quadri scusate di rialzare i quadri e e l'ho fatto prima abbiamo spazzolato allora io stamattina alle 9 meno un quarto stavo con un pennello asciutto e pulito stavo togliendo la polvere da un quadro del 1658 un san magno insieme a san giovanni battista se interessa con una bella madonna con un bimbo un quadro che andrebbe restaurato ma non ci sono i soldi e quindi non lo restauriamo non importa ho tolto la polvere poi l'abbiamo riappeso poi abbiamo appeso un altasindone abbiamo appeso un penefattore un vecchio prete con aria arcigna ho detto a tutti guardate un giorno o l'altro avrò anch'io quest'aria seria e compassata come una persona per bene e abbiamo appeso un'altra madonna una croce e via abbiamo ri allestito la sacrestia manca solo più il tappeto è una bella pulita ai mobili dentro rinfoderiamo i cassetti e poi si riparte e poi sono venuto a casa fatto delle dei volantini ho già distribuiti nei negozi qui sotto i portici di demonte ho passato qualche minuto a chiacchierare col parroco di un'attività che faremo oggi pomeriggio e adesso sono qua ho schiacciato il pulsantone rosso che c'ho davanti che mi dice che sono in live e che mi dice che sono un pazzo maniaco che ho voglia di comunicare al mondo le cose che faccio le cose che vivo chissà chissà se serve sicuramente serve a me serve a me parlare perché ho l'impressione che quello che è difficile da comprendere della chiesa difficile da capire dei preti nasca spesso da una mancata conoscenza chi sono i preti e quando leggo qualcosa a proposito del prete in generale finisce sempre per essere una cosa parziale o addirittura caricaturale e io mi ribello perché la mia vita è bella la mia vita è meravigliosa sono un uomo fortunato sono un uomo che ha messo sul piatto i suoi sacrifici per fare questa vita meravigliosa ilario ho letto la domanda rispondo tra un minuto ho messo sul piatto i sacrifici per e insieme tutte le soddisfazioni possibili e la mia vita è davvero ormai una cosa stupenda io sono felice privilegiato perché accedo a relazioni così tante relazioni e così in profondità che è difficile che passatemi questo termine una vita normale riesca a farlo ma nello stesso tempo privilegiato perché imparo tantissimo dalle persone che incontro e il podcast lo faccio parlando ma la mia vita vorrei che fosse sempre di più così si consuma ascoltando sono un tipo battagliero sono un tipo chiacchierone sono un tipo di indole piuttosto gioviale allegra sono un po' un caterpillar che entra nella vita delle persone ma mi piace tantissimo vedere osservare e ascoltare ascoltare gli altri capire le domande delle persone ieri pomeriggio ho passato una buona ora a parlare con una ragazza vent'anni ventun anni su sui suoi dilemmi sulle sue domande riguardo al vangelo a gesù e lasciandola parlare avevo l'impressione in realtà di avere davanti una persona che ne sapesse quasi più di me perché con la sensibilità diversa dalla mia di una ragazza che ha vent'anni meno di me che ha vent'anni no quindici che ha una donna che ha le sue cose i suoi suoi viaggi le sue le sue passioni aprivano in me una finestra che io avevo mai aperto e questo mi ha fatto molto molto piacere Ilario Sabadini mi chiede cosa pensano i tuoi confratelli del podcast mi danno dell'imbecille dalla mattina alla sera allora non tutti o meglio quelli che sono qua vicini mi danno dell'imbecille perché giustamente sanno che che razza di cialtrone per usare una parola e rubarla ad Andrea Ciraulo sanno che sono un cialtrone e quindi dicono sei sei veramente di solito cialtrone che si mette a fare cose assurde e invece qualche fratello lontano mi scrive ho ascoltato il tuo podcast sono contento bravo vai avanti è una bella cosa comunicare aprire spazi aprire strade di comunicazione è sempre bello e ancora una cosa che che non riguarda tanto i confratelli ma beh no una cosa che riguarda i confratelli è questa credo di avere portato dentro un podcaster nuovo cioè un amico prete molto molto più saggio e sapiente di me che si chiama cristiano maurie che da tanto tempo sul suo sito proprio sul suo blog mette gli audio delle riflessioni che fa sia proprio a partire dalla parola sia a partire da alcune questioni alcune domande e sono degli audio di solito brevi molto fruibili lui ha una bella voce e soprattutto una grande sapienza e allora sono io che gli ho detto di partire con il podcasting e penso che si stia organizzando così come ad alcuni preti o c'è non è un prete ma è il professor grandi che lavora con la psicologia no lui è un antropologo è un antropologo e lavora con la morale eccetera gli ho detto che i suoi video su youtube sono molto fruibili anche come audio su podcast non so se è la cosa giusta da fare perché sono due piattaforme due modi di espressione diversa ma gli ho consigliato di venire ed è venuto anche lui è sbarcato su sul sul mondo del podcast nel mondo del podcasting sono contento perché è una cosa bella secondo me aggiungere anche questa voce quando ho iniziato a studiare teologia non avevo mai pensato alla coscienza come a una voce e invece in tutti i manuali in tutte le lezioni che ho fatto la parola coscienza si associava sempre alla voce della coscienza cioè non soltanto a un bagaglio di consapevolezza e di definizioni interiori diciamo così che ci facciamo ci costruiamo nella vita ma proprio a al grillo parlante di di pinocchio cioè a una voce che continua a sussurrare al nostro orecchio ecco il podcast secondo me è qualcosa che somiglia a questo qualcosa che ti entra nell'orecchio e come untarlo semina dei buchi delle piste che poi tocca a te seguire o approfondire ma intanto quando ascolti qualcosa tu sei diverso sei cambiato e quindi è bello ascoltare cose diverse io non so niente del mondo della tecnologia del mondo del marketing del mondo del 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 business del mondo del ma neanche nel mondo della corsa del mondo del fitness eccetera ma quando ascolto putelli che ti parla di ginastia di correre oppure ti parla di come funziona il marketing o di come si trattano i clienti io lo capisco ed è interessante ma anche quando sento gaudiano piuttosto che non ciraulo che ti parla di cose ogni tanto assurde come il feeder rs per 50 minuti io sono lì in macchina che ascolto a velocità doppia perché ogni tanto fa delle pause oggettivamente che non si capisce se sta finendo e lo devi salutare oppure se deve proseguire chissà se ascolta se ascolta bene se non ascolta si becca questo insulto così gratis ed è ed è bello sentire finestre aperte su mondi diversi la fotografia la regia il mondo della scrittura e così credo ci stia anche la voce per così dire di un credente di un discepolo che ragiona a partire anche da quel testo ho risposto in modo molto lungo a una domanda corta questo è una delle cose più caratteristiche del sottoscritto penso proprio di essere l'uomo che risponde con più parole alle domande più corte dovrei fare l'esperimento se ci fosse una domanda lunga una pagina probabilmente risponderei o sì o no bene non so cosa raccontarvi c'è qui davanti a me una un conteggio di minuti che credo sia il massimo che io possa fare in una live intanto sono 20 minuti che parlo e questa cosa qua è assurda e soprattutto non me lo aspettavo da me stesso cioè me lo aspettavo ma non con il foglietto che avevo preparato pensavo di finire molto prima parlo un po di quello che ho vissuto questa settimana perché è interessante e mi piace ed è una cosa che riguarda i giovani il mondo dei giovani la chiesa ha fatto un sinodo in autunno in ottobre un mondo vecchio stanco sovrastrutturato un mondo pachidermico come quello della chiesa che sceglie di nuovo ancora perché lo ha già fatto in passato diverse volte e lo fa in realtà nelle trincee delle parrocchie quotidianamente di sistemarsi in ascolto dei giovani delle giovani generazioni è stato un evento meraviglioso grande e solenne ma anche appunto pieno di vita pieno di energia e che ha lasciato tante impressioni non tante soluzioni ma tante impressioni e queste cose lavorano lavorano più di quanto io immagini noi immaginiamo questa settimana per esempio mi sono reso conto come nel mondo dei giovani di vent'anni ci sia tanta più ricerca di senso di verità di profondità di direzione di quanto ce ne fosse quando io avevo vent'anni credo che ciò dipenda dai tempi di crisi in cui viviamo ciò dipenda dalla grande instabilità dalla nausea che ormai proviamo per le grandi battaglie condotte in modo grezzo e gretto da chi guida a chi è chiamato a servire la cosa pubblica e questo comporta una ricerca interiore che deve essere possibilmente quella di trovare un oasi un oasi nel cuore e questa ricerca è molto accesa non credo che avessimo una grande crema non credo che avessimo insieme a questi trenta ragazzi con cui vivevo delle persone particolarmente illuminate credo che avessimo la media bella dei giovani normali giovani che lavorano giovani che vanno all'università che si confrontano quotidianamente con il loro portafoglio vuoto e con la voglia di uscire di casa con la voglia di costruire relazioni ma la paura di mettere su qualcosa di vera di duratura una storia e questa questa cosa nei loro occhi brilla e nello stesso tempo i loro occhi tremano cercando vie sentieri anche ieri mattina per le strade di cuneo si è svolta la manifestazione del fighters for futurely come si dice della per la richiesta di attenzione e di risveglio della coscienza ecologica di tutti gli stati no a questo proposito si sono spese mille parole e tante in tante direzioni diverse no e ovviamente se si prende un aspetto quell'aspetto è parziale perché ovviamente oggi pomeriggio quella manifestazione è un ricordo nella testa di tutti per qualcuno è stato semplicemente un'occasione per saltare a scuola ma la ricerca vera che i giovani portano questa c'è cioè la ricerca di autenticità di verità nelle cose che fanno e che gli capitano intorno io la sento la vedo e me la chiedono la chiedono a noi adulti la chiedono a noi educatori io ho ripreso all'università qualche corso di pedagogia di educazione che non avevo mai fatto il tempo sempre troppo poco e vorrei fare di più ma non ce la faccio ma sento che una guida un educatore un adulto ha bisogno di rinsaldare le proprie fondamenta perché i giovani stanno arrivando come una come una marea in piena e se noi non abbiamo nessuna nessun scopo per vivere nessuna verità interiore ci travolgeranno e in realtà non troveranno nessuna strada nuova e quindi si perderanno pure loro poi detto ciò le grandi sfide delle educazioni sono 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 delle incognite sono come si fa a fare l'educatore come si fa a essere adulti oggi è una domandona però ieri alla manifestazione ho visto una bella faccia dei giovani pulita festosa allegra ma nello stesso tempo determinata diversi giovani che sono stati scelti penso nelle loro scuole nelle loro categorie nelle loro associazioni come i più lucidi hanno detto delle cose molto belle fatto dei bei discorsi e qualcuno proprio mi ha fatto tornare alla mente dei dei vecchi cortei di anni quasi dimenticati ma qualcuno è stato molto equilibrato e molto molto lucido è stato bello bello scoprire che i giovani ce l'hanno dentro questa sete di verità di autenticità e mi piace e così anche nel personale se c'è stata una crisi che mi raccontano perché non ero ancora prete dieci anni fa 15 anni fa sulle confessioni oggi un giovane che sceglie di fare questo sagramento ha una grande consapevolezza delle proprie domande interiori delle proprie fragilità e chiede chiede volentieri una mano per uscire dalle proprie dei propri labirinti ed è ed è bello ma è anche una grande responsabilità scoprirlo perché sono arrivato a parlare di tutto ciò non lo so perché mi appassiona e quindi è una cosa che che ho dentro e che e che mi piace bene non so se posso dire altre cose questa live per me tra l'altro ho molto mal di schiena perché sono tesissimo per questo esperimento la mia voce andrà bene le pause che non riesco a tagliare massimo sì davvero i giovani cercano di nuovo dio sì ora io prete potrei pensare che questa parola dio abbia solo un significato che è il dio annunciato e portato da gesù cristo se esco un pochino e con consapevolezza da questa unica definizione e proviamo allargare dio anche a sfumarne i contorni fino a magari sciacquare qualcosa tipo il senso il fondamento della vita l'archè dei greci degli antichi greci piuttosto che non una direzione un impegno io penso che i giovani siano in questa ricerca c'è una generazione che non ha cercato che è la generazione degli attuali 40 50 anni che sono molto disillusi e molto stanchi ma i loro figli cercano cercano tanto si rifugiano tante volte in cose che che non danno niente o poco per cui per cui poi questa ricerca naufraga ma credo che cerchino questo è una è una forse una visione un po troppo ottimistica non lo so qualche prete con qualche anno più di me mi dice che sono un illuso ma credo di avere ragione ops ho peccato di presunzione credo che i giovani cerchino e molto di più di quanto cercassi io io ho 36 anni quando ero un ragazzo mi lasciavo portare volentieri ho goduto di tanti maestri di tanti amici e fratelli maggiori che mi hanno portato mi hanno insegnato ma se non ci sarebbe se non ci fossero stati avrei imparato altro mentre i giovani d'oggi cioè i ragazzi d'oggi sono sono belli perché non si accontentano ho detto subito una cosa esagerata perché poi c'è tanta pigrizia c'è tanta paura e le due cose sono sono grosse perché la pigrizia non è soltanto alzati dal divano e fai qualcosa non si può risolvere solo così il 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 giovane pigro spesso è pigro perché intorno non ha nessuno che lo stimoli mentre la la paura è albergata cioè è messa nel cuore dei giovani perché perché noi adulti gli facciamo paura cioè i telegiornali cominciano con la parola crisi con la parola allarme con la parola problema a tutti i momenti quindi massimo tu riporti la questione alla chiesa e ai dogmi le regole le definizioni dei ruoli e rituali della celebrazione anche qui sì il il mondo ecclesiastico e con ecclesiastico intendo anche ritualistico delle sagrestie è un mondo che riguarda una parte dei giovani nelle nostre comunità comunque devo dire che non è diminuito ma ma mi pare sia aumentato il grado di consapevolezza di chi va in in chiesa ti dico la mia esperienza qui sono davvero in provincia nella provincia della della provincia perché ho detto i numeri all'inizio del del podcast vivo in una zona di 4500 anime le mie parrocchie le mie le parrocchie che servo sono un'ottantina un centinaio di abitanti e i giovani che incontro vengono a messa non sempre ma sanno quello che stanno facendo bisogna aiutarli come sempre come in tutte le generazioni bisogna hanno avuto bisogno di essere aiutate ma sono più disponibili ad ascoltare non si lasciano piovere addosso le parole del prete chiedono conto di quello che dico ora se tu mi dici quattro candele due candele la croce è alta così dove devo rivolgere gli sguardi quante inginocchiare quante volte devo inginocchiarmi quante scampanellate devo aspettare perché la messa sia valida e tu mi racconti di questo ritualismo qua quello è morto penso 20 anni fa forse 30 anni fa che ci sia una nostalgia sì alcuni giovani stanno tornando a essere dei retro e in seminario purtroppo i seminari sono pieni di giovani che stanno cercando di nuovo rifugio in questi nei cassetti della sagrestia che per carità ha fatto del bene ha fatto del bene a tanti quel mondo misterico quel mondo rassicurante quel mondo di borbottini in latino ha accompagnato la crescita di tante generazioni e a me il bello piace abbiamo rimesso a posto la sagrestia insomma abbiamo rinfrescato i muri ma nello stesso tempo mentre tiravamo fuori abbiamo spazzolato lavato messo in ordine e facevo vedere alle donne questo serviva a quello questo serviva a quello mi hanno lucidato l'argenteria in un piace il bello ma ma è quello è un rifugio non dobbiamo illuderci mentre per il lato più profondo quindi della consapevolezza della preparazione della lettura personale i giovani sono sensibili arrivati non sono arrivati perché se non si chiamerebbero adulti sono giovani sono uno stagio precedente ma cercano cercano i dogmi della chiesa sai anche lì bisogna capire che cosa significano perché se io ti dico credici e basta questa è una roba in cui mi rifiuto anch'io e per fortuna nella storia in tanti si sono rifiutati perché questo ha permesso sempre alla chiesa di essere viva di continuare a cercare modi per dire quella parola che non si può cambiare incarnazione non si può cambiare la parola cioè si può cambiare la parola ma il mistero è quello non è che posso dire non ci crediamo più fine dio non si è fatto uomo quello c'è ma che cosa significhi questa e cosa significhi per me per me concretamente questa è una ricerca accesa accesa in me prete che non so già che questa cosa è reale concreta perché ogni giorno la scopro incontrando delle persone vedendo come dio si incarna in quelle persone è presente nella ricerca di chi sta crescendo nella fede non è presente nei bambini perché i bambini ai bambini non si insegnano più le cose non si insegna più a cercare da soli si 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 dà la papa fatta io dico sempre che se continuiamo a dare la pasta in bianco ai bambini loro mangeranno sempre solo la pasta in bianco certo che la bagna cauda è forte ma se non la fai assaggiare una volta o due quando arriveranno a un matrimonio dei loro amici scopriranno che la bagna cauda è cattiva perché non l'hanno mai assaggiata quando c'è il momento in cui si fa festa e si tira fuori la bagna cauda non gli piacerà e associeranno a un disgusto e invece bisogna bisogna allargare il menù fin da bambini e così bisogna insegnare ai bambini a cercare anche un po da soli gusti nuovi sperimentare fare cose e anche nella chiesa anche nella chiesa servire all'altare per me a sei anni ha significato fare un gioco oggi servire all'altare per me è un onore al quale non sono pronto ogni volta sono indegno di stare lì e con con grande tremore faccio quello che devo fare e l'ho imparato non è che lo lo sapevo l'ho imparato grazie a te speravo proprio di ascoltare queste tue considerazioni confito davvero intelligenza non indifferente che giovani futuri nuovi genitori nutrono verso qualcosa di grande massimo io ci io ci credo poi ripeto è credo che andiamo verso credo che andiamo credo che stiamo andando verso una società molto multiculturale dove le offerte di senso sono sempre di più e sempre sempre più grandi se sentite le campane sottofondo è perché abito sotto un campanile scusatemi ed è mezzogiorno e andiamo verso un mondo plurale dove le risposte non saranno più scontate e il panorama dei nostri paesi avrà sempre il campanile ma magari avrà anche altre possibilità offerte questo non deve diminuire in noi la ricerca a siccome ci sono tante possibilità beh insomma una vale l'altra no dobbiamo probabilmente riaccendere in noi la ricerca di una di una consapevolezza più profonda per chi crede già e ha trovato le sue le sue parole non dico le sue risposte perché è veramente difficile trovare risposte ma le sue parole per dirsi il cammino si tratta di essere testimoni e non maestri con la bacchetta questo è giusto e questo sbagliato io almeno provo a mettermi in questa direzione io amo nostro signore gesù cristo il suo vangelo e la sua chiesa e lo dico lo ripeto li amo non perché siano perfetti o meglio gesù cristo sì il suo vangelo sì la chiesa no non perché le tradizioni cristiane e cattoliche siano perfette non le amo per questo le amo perché sono la mia mamma la mia mamma non è perfetta mia mamma è una grande donna forte con tantissimi pregi con 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 insomma una donna straordinaria ma è solo un'umana ed è la mia mamma ogni tanto abbiamo litigato alle lacrime come con tutte le mamme e su tante cose probabilmente credo proprio che sbagli così come lo fa la chiesa ma la ricerca di senso e la ricerca di affetto la e la e la strada per diventare grandi nella vita passa attraverso una ricerca vera e io spero di essere un testimone ma sì l'ho anche tu massimo e anche ilario e anche tutti gli altri che mi ascoltano se mi ascolta qualcuno perché la testimonianza è l'unica via per passare delle cose sì c'è speranza massimo c'è tanta speranza forse proprio questi tempi di crisi tu pensa se abbiamo preso mai mano la storia lo sappiamo finita la guerra l'italia era in rovina non era in crisi era in rovina e durante la guerra sono stati concepiti milioni di bambini ci penso ogni tanto tutti i nati negli anni 47 46 45 sono stati immaginati in relazioni che sembravano non avere nessun futuro sono stati concepiti in coppie che lui era al fronte chissà se sarebbe tornato mai e chissà cosa sarà di noi non abbiamo più niente i partigiani o i fascisti ci hanno mangiato tutte le vacche le galline ci hanno preso tutto hanno bruciato i campi i tedeschi ci hanno bombardato non abbiamo più nulla cosa facciamo per rispondere a questo mettiamo al mondo dei figli cioè scommettiamo sulla speranza e io penso che questi tempi non somigliano a quelli là per fortuna non ancora ma si possono sconfiggere si possono superare solo con la stessa identica medicina la speranza che non è illusione utopia ma è speranza cioè seme piantato con con l'idea che il prossimo anno porterà un germoglio che poi sarà pianta che poi sarà fiore che poi sarà frutto ma ci saranno frutti mamma eh che bella predicona sono un po un po verboso scusa però è anche così che questo microfono un po acchiappa tira va bene sentite io vi ringrazio molto di avere partecipato per questi minuti ormai sono quasi 40 e vi saluto tutti vi auguro buon pranzo e spero che questo esperimento sia andato a buon fine se lo è andato grazie a voi del vostro tempo vi saluto vi auguro a tutti come sempre di diventare santi e buona giornata ciao ciao